le vacanze di peppa pig scegli una posizione da usare per questo gioco scegli una posizione da usare per questo gioco scegli una posizione da usare per questo gioco benvenuto nelle vacanze di peppa pig ci sono un sacco di cose divertenti da fare in vacanza ogni volta che giochi vinci uno sticker per il tuo album tutta la famiglia ama fare il bagno in piscina vediamo chi riesce a nuotare più velocemente più persone possono fare questo gioco scegli i tuoi personaggi preferiti trascinandoli in ciascun cerchio tocca la spunta quando hai finito schiaccia ripetutamente più veloce che puoi il personaggio nel cerchio per farlo nuotare veloce schiaccia ripetutamente hai vinto uno sticker mamma pig ha vinto la gara peppa e george adorano tuffarsi in piscina per andare in spiaggia aiuta peppa e george a prepararsi per la spiaggia aiuta peppa a scegliere cosa mettersi tocca la spunta puoi sceglierne più di uno tocca il tubetto per mettere un po' di crema solare muovi le dita per spalmare la crema solare su peppa assicurati di aver spalmato la crema dappertutto ben fatto! peppa è pronta per la spiaggia ora tocca a george tocca un costume da bagno da far mettere a george ottima scelta tocca i tuoi oggetti preferiti da far mettere a george per la spiaggia puoi aggiungere anche altri oggetti tocca la spunta quando hai finito tocca il tubetto per mettere un po' di crema solare muovi le dita per spalmare la crema solare su george assicurati di aver spalmato la crema dappertutto george è pronto per andare in spiaggia aiuta peppa e george a scegliere cosa portarsi in spiaggia tocca un gioco da mettere nel cestino secchiello secchiello blu orsetto paletta verde pallone da spiaggia asciugamano rosa dinosauro pallone a macchie barchetta paletta arancione racchetta asciugamano blu hai vinto uno sticker peppa e george amano la spiaggia ci sono un sacco di cose da fare esplora la spiaggia toccando le cose che riesci a vedere non puoi mai sapere cosa può succedere parela parola 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 Wow! Sei sicuro? All'aeroporto? Peppa e la sua famiglia sono in aeroporto. Puoi aiutare loro e gli altri passeggeri con i bagagli una volta che passano i controlli? Metti quattro valigie sul nastro. Uno, due, tre, quattro. Schiaccia il bottone. Ben fatto! Metti tre valigie sul nastro. Uno, due, tre. Schiaccia il bottone. Ben fatto! Metti due valigie sul nastro. Uno, due. Ben fatto! Metti quattro valigie viola sul nastro. Uno, due, tre, quattro. Questo lo hai già fatto, vero? Metti due valigie rosse sul nastro. Uno, due. Schiaccia il bottone. Continua! Metti tre valigie gialle sul nastro. Uno, due, tre. Ben fatto! Metti due valigie viola sul nastro. Uno, due. Schiaccia il bottone. Schiaccia il bottone. Questo lo hai già fatto, vero? Metti quattro valigie rosse sul nastro. Uno, due, tre, quattro. Continua! Metti una valigia gialla sul nastro. Uno. Questo lo hai già fatto, vero? Metti tre valigie viola sul nastro. Uno, due, tre. Schiaccia il bottone. Perfetto! Hai tutte le valigie che ci servono. Riesci a vedere cosa c'è nelle valigie? Ti ricordi cosa c'era in ogni valigia? Trova e trascina gli oggetti giusti verso la macchina a raggi X. Trova e trascina gli oggetti giusti verso la macchina a raggi X. Ops, questo non era nella valigia. Dai ancora un'occhiata ai raggi X. Sono sicuro di aver visto un paio di occhiali. Rezci a vedere. Ben fatto! Era uno spazzolino da denti. ben fatto questo lo hai già fatto, vero? ben fatto ben fatto ben fatto ora cercane un altro penso di aver visto un telefono questo lo hai già fatto, vero? ora cercane un altro ben fatto ben fatto penso di aver visto una torcia elettrica ben fatto hai tutti i bagagli hai vinto uno sticker ora Peppa e la sua famiglia possono volare in vacanza facciamo la pizza aiuta Peppa e George a fare la pizza per la famiglia tocca gli ingredienti e aggiungili alla scodella acqua farina gira il cucchiaio per mescolare gli ingredienti tocca l'impasto e muovi il dito per impastare muovi il dito per stendere la pasta muovi il dito per stendere la pasta tocca il mattarello e muovi le dita su e giù per stendere la pasta bene l'impasto è pronto tocca la salsa di pomodoro per aggiungerla alla pizza tocca il cucchiaio e spalma la salsa di pomodoro sulla pizza ora affetta le cipolle continua ad affettare ora affetta i peperoni continua ad affettare ora affetta il pomodoro continua ad affettare ora affetta l'ananas continua ad affettare muovi il dito sulla linea tratteggiata per tagliare scegli gli ingredienti da mettere sulla pizza formaggio peperoni mais cipolla spinaci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti